Grazie, signor sottosegretario buonasera, immagino che dopo 4 ore di lunga discussione sarà un po' stanco, io provo a catturare la sua attenzione con qualcosa che non riguarda esclusivamente le cifre economiche, perché questo comparto è composto da persone che nella loro professione, nella loro attività ci mettono sangue, lacrime, passione e io proprio oggi ho ricordato un ragazzo, Francesco Fischedda, un ragazzo, un poliziotto di 28 anni che è morto circa un anno fa, inseguendo un criminale, un malvivente ed è stato tra l'altro, assurdità del nostro sistema, soccorso anche con ritardo rispetto al malvivente, quindi è stata data per assurdo, questo stanno dicendo gli accertamenti, le indagini in corso, è stata data primazia al soccorso al malvivente rispetto al poliziotto che era stato anche indifferente. Perché faccio questo riferimento? Perché il contratto di lavoro non è esclusivamente una distribuzione di risorse economiche, è un riconoscimento della dignità che deve avere il personale che appartiene a questo comparto, un comparto che probabilmente per le molte sensibilità diverse dovrebbe essere oggetto di una seria riflessione, di una valutazione sulla necessità o meno che continua ad essere unitario oppure che veda degli assetti e delle conformazioni che siano diverse rispetto a quello attuale. Ma nel merito delle questioni appunto del riconoscimento della dignità che deve essere data agli appartenenti a questo comparto, noi abbiamo detto già negli incontri precedenti e nella piattaforma contrattuale che vi abbiamo consegnate che le risorse non erano sicuramente bastevoli per fare nel suo complesso tutte le varie sfaccettature di questo contratto, la parte normativa, le indenità accessorie e la parte fissa del trattamento economico. Noi continuiamo a riscontrare una certa ritrosia, un certo ostracismo a fornirci dei dati, perché le tabelle che ci avete fornito dopo, siamo al quarto incontro, dopo quattro incontri, sono delle tabelle che sono quanto meno approssimative. Cioè noi siamo abituati, eravamo abituati a un confronto in questa sala dove la funzione pubblica era prodiga di dati, era pronta a fornirci in ogni momento i dati che noi chiedevamo. Noi qui ancora nonostante ci sono state presentate queste tabelle, neanche lo sforzo di dire se queste risorse, se questi appostamenti sono lordo dipendente, sono lordo amministrazione, sono lordo Stato, dovete avere il coraggio, dovete avere il coraggio di scrivere le cose, dovete scrivere, no no sono arrivato presto, sono arrivato presto, dovete avere il coraggio di assumervi le vostre responsabilità, dovete scrivere quelle che sono le risorse appostate per il 2016, le risorse appostate per il 2017, le risorse appostate per il 2018 e l'impegno che questo governo vuole assumere nella sua distribuzione, perché è inaccettabile quello che state proponendo agli appartenenti a questo comparto dopo otto anni di blocco. Se voi vi immaginate che noi possiamo accettare un contratto così fatto vi sbagliate di grosso e sarà un esempio la mancanza del rispetto della dignità professionale degli appartenenti a questo contratto che non può essere svenduta in un anticipo di campagna elettorale. Voi continuate ad anticipare quello che poi comunicate a noi in modo tardivo sugli organi di Stato. Io vi prego di mantenere delle corrette relazioni sindacali, di avviare questa procedura contrattuale e negoziale così come previsto dalle norme senza continuare a fare ostracismo. Comunicate i dati alle organizzazioni sindacali e alle rappresentanze. Questo è il primo passo per avviare un serio confronto. Al contrario state facendo altro. State cercando di prendere tempo evidentemente, state cercando di non assecondare le richieste che arrivano dal comparto e nel merito delle questioni come noi abbiamo evidenziato già nei precedenti incontri avevamo chiesto di predisporre delle tabelle che prevedessero che gli interi importi disponibili e le intere risorse disponibili fossero assegnate sul trattamento fisso con una netta prevalenza sul parametro. Così come peraltro si ottenne nel lontano 2010 con la coda contrattuale, l'ultimo contratto sottoscritto da questo comparto dove circa l'80% delle risorse furono stabilite, furono messe sul parametro e soltanto il 20% sull'indenità pensionale. Invece per quanto riguarda il lavoro straordinario, anche su questo alcune riflessioni vanno fatte. C'è stato un momento in cui alcuni governi hanno pensato che gli appartenenti alle forze di polizia fossero troppi, era necessario tagliare gli organici e così è stato fatto. Ora immaginare che bisogna fornire risorse economiche tagliandole dagli stipendi degli appartenenti alla Polizia di Stato.